Sapori e tradizioni tipici del territorio riscoperti attraverso una piacevole passeggiata nel centro storico di Biceglie. Per il secondo anno consecutivo torna il Borgo delle Meraviglie. Artigiani, commercianti ed artisti ridanno vita agli antichi locali che costellano il percorso che dal Teatro Garibaldi giunge sino a Porta di Mare per esporre articoli, opere d'arte e prodotti culinari frutto del loro ingegno e della loro creatività. La manifestazione, organizzata dal Gal Ponte Lama insieme a Conf Commercio e all'Associazione Borgo Antico, si inserisce tra le iniziative che dopo un anno e mezzo di pandemia hanno l'obiettivo di dare un rinnovato impulso al turismo di qualità e alla valorizzazione delle eccellenze locali. È una manifestazione che è nata lo scorso anno, volendo essere veramente una sfida, una sfida per il periodo storico in cui ci troviamo, ma anche perché l'obiettivo è far rivivere le vecchie botteghe del nostro centro storico. Infatti molti locali sono stati riaperti dopo tantissimi anni, grazie alla collaborazione di artigiani, artisti, commercianti è possibile oggi visitare il centro storico, fare una piacevolissima passeggiata e soprattutto riuscire anche ad acquistare o comunque vedere o anche degustare prodotti tipici della nostra tradizione. Il Borgo delle Meraviglie animerà il centro storico di Biceglie sino al 15 settembre con un programma che si arricchirà di nuovi appuntamenti, soprattutto nei fine settimana. Per arricchire il Borgo delle Meraviglie dal prossimo fine settimana e per tutti i fine settimana fino a settembre avremo degli eventi, eventi che sono stati realizzati per sempre valorizzare gli artisti locali e anche per fare in modo che il nostro centro storico possa rivivere anche attraverso gli spettacoli e l'arte. Grazie a tutti.